Steph vs Fere con il parkour Fere sei pronta? Per niente, te lo dico, guarda per niente sto per dare forfè a andarmene via A prendermi un gelato, un caffè Ma c'è una buona notizia Cosa? Non solo devi fare il parkour, lo devi anche costruire Fere Mi prendi in giro? No Mi prendi in giro? Devi costruire un parkour tutto tuo Chiaramente mi sta prendendo in giro È bellissimo E ragazzi come va? Io sono Fere Niki E sono Steph e che si giocava a Minecraft Pervenuti in una nuovissima episodio di Minecraft In cui ci sfideremo in una sfida un po' particolare Perché non solo dovremmo sfidarci al parkour Ma lo dovremmo anche costruire Quindi doppiamente difficile No, è una doppia sfida Perché tu praticamente non solo devi essere brava nel far parkour E non lo sei, e non lo sono, e lo sanno tutti Ma dovrei anche essere brava a costruirlo E non lo sei, e non lo sono, e lo sanno tutti Esatto Quindi sarà una doppia sfida di E non lo sei, e non lo so, basta Comunque A doppia sfida di Nabi C'è chi fa più schifo, non a chi lo fa più bello Esatto, nessun, cioè non avremo nessun tipo di limite Fere Se non dieci minuti Tu hai dieci minuti per costruire il tuo parkour Dovrai constatare tu stessa che funziona Perché non puoi mettere ovviamente dei pezzi impossibili Perché altrimenti non vale la sfida Dopo dieci minuti ci dovremo fermare in quello stesso istante E a quel punto ci sarà la sfida dei due parkour Io farò il tuo, tu farò il mio Chi ci mette meno tentativi a fare quello dell'altro ha vinto Ti piace? Ci sta Ok, perfetto Cioè, allora, prima di tutto non voglio sapere neanche come sei riuscita a mettere in un cuore La scritta Queen Con i banner Però Ci ho messo, ti giuro una cosa Come mezz'ora solo a fare quelle lettere Perché non le sapevo fare Questo è quello che succede quando io le do un incarico Ho dovuto guardare un videotutorial Per capire come fare le lettere Banner fiera E quindi ieri, capito, nella preparazione di questa mappa C'è stata mezz'ora solo per fare la scritta Queen Capisco, capisco Però mi è vasta la pena Eh sì, eh sì, eh sì Senza non avremmo potuto fare il video Il geloso che a te non ho scritto nulla Esatto Comunque, dentro la cesta troverai tutti i materiali Te li puoi tranquillamente già prendere Ti ho messo un pochettino tutte le cose classiche Che si usano per mettere difficoltà con un parkour Ok Ovviamente scegli tu quanto usare di una cosa Se usarla o meno puoi fare quel cavolo che ti pare Fare a me non mi frega minimamente nulla Io mi sistemo tutto così E direi che sono pronto ad iniziare Quindi metto un timer, fare, sei pronta? No, aspetta Sto vedendo bene i materiali Sto cercando di focalizzare come sarà il mio Addirittura Cioè non devi pensarlo prima Lo si improvvisa abbastanza Vado a casaccio Avvio? Sì Pronta? Sì 3, 2, 1, via Avviato Non so cosa fare, Steph Ok Allora Che faccio? Allora, allora, allora Io mi metto Non urlare Stai calma È semplicemente una sfida di parkour Abbiamo 10 minuti per costruire un percorso Che metterà in difficoltà l'altro Quindi io inizierei con una roba abbastanza fastidiosa Che perlomeno a me dà fastidio Ed è il salto carpiato Cosa vuol dire? Ti sto prendendo in giro Ah Ok, bene Era fatto apposta Ok Distruggo 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 E metto Una scaletta qua Vediamo se è possibile fino ad ora Ma penso proprio di sì A parte il poterci salire In effetti non ci avevo pensato Ok Quindi Sarebbe 1, 2, 3, 4, 5 Mi sembri molto deciso Nella tua Nella tua In realtà Ho appena provato a farlo E sono caduto miseramente Ah, ok Ok 1, 2, 3, 4, 5 E 6 Ah, ma Mmm Mmm Mi sta che devo metterlo uno più distante Altrimenti neanche la sfruttiamo la scala E qua la scala voglio che si sfrutti Quindi Un attimino Vediamo così Opla Ok Riproviamo e vediamo se fino ad ora Ho fatto qualcosa di carino Io sono molto concentrata Stef Ho notato Infatti sei silenziosa Non voglio guardare alla destra Per vedere il tuo Secondo me è troppo difficile Non è neanche fattibile La cosa che sto Ah, ok Bene Oh, yes Ma in realtà non ho risfruttato la scala Però Ce ne freghiamo Diciamo che se non fai il salto perfetto Hai la scala che ti dà una mano Ok, ok Ok, perfetto Adesso ci devo tornare sopra E devo continuare Guardate un pochettino cosa ho fatto Secondo me sta già diventando Molto divertente questo parkour Partiamo qui Abbiamo i saltellini a raffica Che sono sempre fastidiosi Secondo me Facili ma fastidiosi Poi Salto un po' impegnativo Dopodiché Precisione costante Tutto qua Guardate quanto cavolo L'ho fatto lungo e fastidioso Perché cambia costantemente direzione Si arriva così Si arriva così Rincorsina E salto E qua diciamo che si conclude un po' La prima fase del mio percorso Quindi per ora Tre difficoltà Saltellini brevi Salto lungo con ladder E dopodiché percorso col vetro A questo punto Eh ma mi stai spoilerando tu Eh tranquilla Ho ascoltato la metà sinceramente Eh però ho un po' sentito Non ce l'ha bisogno di dirmi Questa cosa è terribile Vabbè scusate come l'hai detto Un po' ho capito Ma vabbè pazienza Da qui facciamo tipo Uno Due Tre Distruggo questo Distruggo questo Metto Questo qua E se spacco questo Dovremmo avere un risultato carino Allora vieni tu a vedere prima il mio Vengo io prima da te Eh dai vengo a vedere il tuo Ok Vai Allora te lo presento Sì Abbiamo Prima fase Saltellini fastidiosi Ok Si chiama così Dopodiché salto lungo con scala Dopodiché percorso di precisione sul vetro Saltellino semplice Salti di precisione sulle fence Ok Salto Questo qua guarda Fere Vieni qui Questo è il più difficile Qui Ma sei pazzo È difficile Questo è cattivo Ma è fattibile Salto su ladder Salto su ladder Salto lì Salto sull'acqua Per salire sopra Se arrivi lì sopra è finito Sì Il mio dura il doppio Davvero Com'è che me l'hai fatto Fa tutti i giri strani il mio Non lo so Allora Aspetta Aspetta Ma sei sicura che è fattibile almeno No No Allora ho provato qualche salto I più difficili Comunque ce l'ho fatta Quindi Allora Non ho provato i più semplici Saltellini Salto di precisione Salto nel ladder Salto lì con la co-web Co-web che rallenta Cobweb che rallenta Salto 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 precisione Cobweb che rallenta Non fa fastidio Salto Salto sulla scala Si salta Si salta Ma com'è che me l'hai fatto A fare una roba così grande Ti ho messo anche le scale laterali Hai apprezzato Quelle scale lì Che se non prendi bene Guarda che ti rallenta la ragnatela Però è fattibile L'ho provato E io sono riuscita a salire sopra Quindi Ok Voglio provare io prima il tuo Ok Perché ormai sono curioso Quindi dobbiamo Tu mi hai detto Costruisci Fai Io ho cercato di renderlo Ma sei stata bravissima Allora Faccio schifo Quindi dobbiamo contare Quante volte riesco Cioè quante volte fallisco Per vedere Ok Quindi chi ha fatto più difficile Per fallimento voglio piazzare un blocco Tipo qua piazzerò un blocco Mi piace Allora inizia a togliere Perché non fallirò No certo vai Allora Allora Ok Ok Sei più bravo del previsto Ok Vai Ma questo è fattibile L'hai provato? No Secondo me questo non è fattibile Cioè io pensavo Tirare in tasse e basta Ma che puoi saltare no? No Vedi Allora aspetta Tieni Grazie Aspetta 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 Sennò è troppo facile il salto Vai Ok Ok È un po' fastidioso Aversi là dietro comunque Quindi Almeno un pochino di senso Gli è rimasto Ok Invece qua funzionano Ok Perché tanto comunque È solo un percorso Quindi È giusto perché penso Perdo la pazienza Ti fanno perdere la pazienza E ti possono far cascare Comunque le vedi a te fuori Scusami Nella mia cesta non c'erano Fere La mia sì Guarda La mia sì Mi fa molto piacere Allora Chi ha costruito la mappa Ha anche il bonus Un bonus in più Ok Senta la ragnata L'ho appena decisa come regola Io sarei preoccupato al posto tuo Fere Perché? Perché sono più di metà percorso Ma lo so Ma sei bravo tu Io farò schifo Nel tuo cadrò ventimila volte Non lo voglio più fare Stef Ok Vediamo lì Ok Sai che forse la ragnatela Mi dà In effetti un po' ti ha aiutato Una mano Forse Per arrivare Forse non è stata una bella No in fece mi sta dando fastidio Una bella idea Non capisco più se sono Nella ladder o no Fere Eh non lo so Io però questo l'ho provato E sono sicura E sono riuscita a salire sopra Quindi Stef Ti prego non cadere Ti prego non cadere Ti prego non cadere No no ce la fai Ce la fai Ti è andato troppo veloce però Dovevi fermarti lì Eh a capire quando finisce l'effetto Porca miseria Vabbè dai Per ora si è caduto una volta Non penso che avrei problemi D'ora in avanti Comunque mettiamo Un block Beh Beh Devo pur sempre rifarlo tutto Quindi Due volte Due blocchi Mi dispiace Stef Mi dispiace però Tasta è un po' cercata Insomma No È caduto di nuovo Cioè volevo scegliere Dei blocchi diversi Ho detto un attimino Che me li cambio Metto i rossi Devi sapere Devo mettere tre Che Stef Quando riesci a fare una cosa Poi non la rifà Devi metterne quattro Cioè come Si è andato così bene Perché Perdo la motivazione Perdo la sfida Perché se una cosa L'ho già fatta Non mi interessa rifarla Perché ho perso la sfida Sì ma funzioni storto Stef Lo so Funzioni un pochissimo storto Perché non è normale Questa cosa Lo so Quanti tentativi ho Dieci Tredici 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 sbagliati Porca miseria Sì Allora Che poi sempre nel primo punto Gli hai sbagliati tutti là Dai Stef Riprendi da lì però Ti prego Quattordici No Non riparlo tutto Stef No Stef stiamo tutto il giorno qua No 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 Io non ho neanche iniziato A provare il tuo Accidenti Cioè riparti da lì Ti prego No Io non sopporto più eh Te l'ho detto Ripar Dai Stef Bene ma tutti quei blocchi Sono miei fan E ne ho provato tanti Allora eh Sì ne è ben 26 Stef 26 errori Dai ti prego Finiscilo Sono guarda che dobbiamo Provare il tuo parkour In un altro episodio eh Io te lo dico Perché qui sono Dura 50 minuti No riprendi da lì No riprendi da lì Basta Ti segno l'errore Ma ti prego Riprendi da lì sopra Lo stiamo pensando tutti eh Ok Non fa Non fa Vai Ok Appena non ho più l'ansia Dai questa È anche la parte più semplice Perché lì ti ho messo Anche il doppio vetro Oh Vuoi gli applausi Stef Li vuoi Andiamo al mio Cioè se non ti avessi fatto ripartire lì Saremmo arrivati a 45 tentativi 5 10 15 20 25 27 La prossima volta lo facciamo a checkpoint A meno io a proprio rifare la stessa cosa all'infinito Quindi No certo Annoierebbe chiunque Ho imparato Sì ma proprio non ho più motivazione Non ho più motivazione a un certo punto Facciamo a checkpoint della prossima volta Ok Adesso vediamo se Fere Ci riesce In pochi tentativi Mi libero anche l'inventario Perché non mi piace tutto quello Anzi mi prendo prima di tutto L'avrei dovuto fare del cibo E tu mi stai guardando Te lo do io al cibo Ok 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 A me questi sono quelli che spaventano di più Lo so infatti sono semplici Ma danno sempre fastidio Ok Piano 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 Allora io normalmente vado a prendere Vado il blocco di Fere Smettila Non farò errori Forse nell'iron bars che hai messo Che secondo me non è fattibile No fattibile è fattibile Spero è difficile Ok Ok Voglio andare un po' più avanti Ok Non sta concentrata Ok Ok No ma qui me ne hai fatte troppe però eh Eh dai I due pezzi dove ce ne sono tanti è semplice Quella era la parte più difficile Ci sei riuscita Ok Cavolo non mi ha saltato Ho notato Ok Un errore Perché allora È più difficile secondo me fermarsi dopo i salti Sarebbe utile farli tutti di fila Mmm Secondo me sì Cioè quelli bravi li fanno tutti di fila Sì 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 Attenta perché piano piano le parti più semplici diventeranno difficili Fere È una lezione che Stef ha già imparato Piano piano La smetti di stare sotto Piano 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 Fere brava Sì così Vattene Vattene Con calma Con calma Allora il tuo è anche più corto quindi tecnicamente posso riuscire a fare meno meno tentativi Tecnicamente Quindi perché è più corto Ok 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 devo arrivare lì Attenzione Ok No vabbè questo è la cosa più importante È l'ultimo salto perché poi gli altri sono facili Cavolo Troppo È difficile È difficile Inizio da avere fan anche tu Fere È snervante Lo so Allora devo stare concentrato perché secondo me la cosa che devo evitare è di ricadere come un pesce in quelli che ho già fatto Quindi piano piano È saggia È saggia Guarda Ed ecco Perché mi distrai lo fai apposta Eh io sto zitto Non ci arrivo a 30 come ci sei arrivato tu guarda Io sto zitto e rimarrò qua ad osservare in silenzio anche tu stare in silenzio fin quando non arrivi L'ho visto eh Faccio tutto di fila L'ho visto Faccio tutto di fila L'ho visto Un altro Siamo a 5 Sto odiando ma lo stai facendo apposta Steph Ci dovrebbe essere in silenzio in questi momenti Io mi ho visto delle persone nelle competizioni avere del chiasso Attenzione ci vuole riuscire Non me la sento Non me la sento Devi Più corta di prima Quanto dovrò Uff Ok Vai Sì Ok Mi stanno sudando le mani in questo momento Ok devo arrivare alla cascata giusto Sì Ci ho fatto Ci ho fatto Guarda Steph Questa è la faccia del vincente Steph Questa è la faccia del vincente E la tua è quella del perdente Quanti tentativi solo Eh vabbè Ma sono stata troppo brava Comunque c'è da dire che il mio è uscito un po' più difficile Cioè perché tu mi hai detto Fai un bel parkour Mi sono impegnata Tu l'hai fatto un po' L'abilità sta anche nel costruire in fretta Dieci minuti Fare un bel percorso Te l'ho detto Per quello era una doppia sfida Per ragazzi Se ne siete sentite Sceglieci Sceglieci